Sono patologie in continuo aumento e con elevato indice di mortalità. La bulimia e l'anoressia rappresentano la prima causa di morte delle ragazze dai 12 ai 22 anni e sono sempre più frequenti anche i casi nei bambini. Saranno questi i temi al centro del convegno che si svolgerà a giovedì 21 alle 15.30 nella sala di rappresentanza della Fondazione Cassa di Risparmio di Fano all'incontro organizzato dalla sezione marchigiana dell'Associazione di Genitori Mifido di Teollus e dell'Associazione ETA di Ancona con il patrocinio dell'Area Vasta 1 saranno presenti maggiori esperti dei disturbi del comportamento alimentare. Sempre maggiore l'incidenza anche negli uomini, soprattutto nell'adolescenza e anche nei bambini maschi dove si manifestano non certamente con il non mangiare ma con dei disturbi del comportamento che vanno tenuti sotto controllo, senza terapia ovviamente. Anoressia e bulimia, come tu hai detto, sono certamente le cause più importanti, meglio conosciute ma esistono anche altre forme non meglio specificate, quella è la vigoressia che è quella che interessa dei giovani che fanno sport per ore e ore al giorno e che sono altrettanto importanti anche se forse meno gravi come esito. Di questo ne parleremo appunto in questo convegno di domani che vedrà la partecipazione della dottoressa Laura Dallaragione che è la principale esperta, maggiore esperta del campo a livello nazionale e la responsabile del centro Palazzo Francisci di Todi ed è referente per il Ministero per i disturbi alimentari. Insieme a lei ci sarà la filosofa Paola Bianchini che appunto ci parlerà proprio della difficoltà e del coraggio di essere genitori. Noi appunto come associazione di genitori affianchiamo e sosteniamo le famiglie che sono coinvolte in questa patologia che è una patologia devastante per il ragazzo o la ragazza ma anche per la famiglia e appunto perché queste spesso sono lasciate sole dalle istituzioni. Dalle istituzioni che non hanno finora, almeno nelle Marche, dato un regolamento, delle linee di indirizzo su quello che devono essere tutti i vari setting terapeutici, quindi tutte le varie fasi del trattamento da quello ambulatoriale fino a quello che riguarda il ricovero proprio residenziale, riabilitativo. Chi parlerà di questo argomento? Di questo argomento appunto parlerà il dottor Piero Ciccarelli che è il direttore del Servizio Salute della Regione Marche che si è impegnato personalmente con tutta l'equip dell'Agenzia regionale delle Marche proprio alla realizzazione di queste prime linee di indirizzo marchigiane.